allora signore e signori buonasera benvenuti al sunset party agenzia lignano siamo lieti di avervi con noi speriamo speriamo vi stiate divertendo e adesso voglio dire qualche in inglese magari hi everybody thank you to be here with us to the sunset party agenzia lignano and now we present you the wonder team agenzia lignano presentiamo il wonder team dell'agenzia lignano cominciando da alice roberto silvia elisa lisa sefero maura magda alessia clara luca luigi lacheno e io muore quel culo pelato chi ha cura del peccato muore quel culo pelato hai capito lice? ok allora adesso noi facciamo anche gli auguri a lisa alessandro scusa grazie alice noi facciamo gli auguri a lisa che oggi compie 40 anni 40 e non sentirli ma avevamo qui anche da presentare dov'è la mamma di lisa? è lì svetlana che ha prodotto lisa grazie grazie svetlana allora adesso do la parola a silvia che vi dice qualcosa in inglese grazie silvia grazie a tutti per aver guardato il nostro corso grazie a tutti per aver guardato il nostro corso grazie a tutti per aver guardato il nostro corso e ho spero che avete un buon giorno grazie a tutti per aver guardato il nostro corso Grazie a voi che siete presi da noi, spero di averci piaciuto il piacere e il piacere. Ok, spero di averci piacere, pronti.